ah ragazzi quando ero con Marzello io anche giocavo Marzello io ero giocato forse ah con San Delegio magari per il livello io non faccio un po' io non faccio un po' facciamo un po' in fondo che veniva avanti facciamo una diretta facciamo una diretta dal campo vedo e là ti gioca ecco onzedicesimo adesso dopo devi giocare con ciò e allora no ma che e e assolutamente sì o e se c'ho qualcosa allora devo metterlo anche su Facebook e possiamo dire e darle allo strema ok 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 ok